Roach! Roach! Svegliati! Roach! Li vediamo dall'elicottero! Stanno arrivando a decine! Roach! Sono troppi! Muoviti ad andartene! E trovo modo di arrivare ai testi! Muoviti! Corri! Vai sui testi! Roach! Proviamo l'aria, ma non si entra! Devi raggiungere i testi! Roach! Ti vedo! Salta giù sui testi! E raggiungiaci a sud della tua posizione! Carburante al minimo! Devo partire tra 30 secondi! Roach! Siamo quasi a secco! Hai 30 secondi! Muoviti! Sinistra! Vai a sinistra e salta giù! Sei! Solta! Nicolai, non ce l'abbiamo! Portaci via! Dove andiamo, amico mio? Portaci al sol!